www.etvmarked.it In apertura di questa edizione una buona notizia, una notizia che riguarda l'ex campione di nuoto Filippo Magnini che salva la vita ad un bagnante successo in Sardegna, un bagnante che stava annegando in mare. Per fortuna che c'era il nostro Filippo Magnini, solo il pronto intervento dell'ex nuotatore di Pesaro, tra le altre cose medaglia di bronza olimpica, due volte campione del mondo, nei cento stile libero, ha salvato la vita ad un turista che oggi pomeriggio ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque di Cala Sinzias, fra Villa Simius e Costa Reine, provincia appunto di Cagliari. La notizia è stata resa nota dal direttore della provincia di Cremona, Marco Bencivenga, testimone oculare dell'episodio. Una buona notizia di apertura, una notizia che viene da fuori in Regione Marche come questa, che purtroppo non è certo positiva, viene da Rieti e ci parla di uno scontro tra moto e motorino lungo la salaria. Il bilancio è di un morto e di un gravissimo ferito, si tratta di un marchigiano, l'incidente stradale tra una moto e una motorino, un vecchio ciao, un impatto violentissimo in cui ha perso la vita un ragazzo che era alla guida del motorino, una 26enne originario dell'Albania, mentre il centauro maceratese che era a bordo della moto ha riportato traumi e lesioni gravi tanto da renderne necessario il trasporto in elieambulanza al Policlinico Gemelli di Roma a causa del politrauma riportato. Questo è il luogo dell'incidente. Ancora cronaca, questa volta da Acquaviva a Piccena, perché una ragazza di 18 anni è stata colpita al torace dallo zoccolo di un cavallo. Una giovane trasportata dunque al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto a seguito dell'incidente è venuto sulle colline di Acquaviva a Piccena. La ragazza è stata colpita al torace dallo zoccolo di un cavallo. Era in compagnia di amici che hanno chiesto i soccorsi sul posto un'ambulanza della misericordia di Grotta Mare che ha trasportato la giovane al pronto soccorso di San Benedetto. Le sue condizioni sono serie ma fortunatamente la diciottenne non è in pericolo di vita. Parliamo ora di una notizia che viene da Fiastra e che fa riferimento all'ondata di calore che fino a poche ore fa ha colpito le marche ma come vedremo tra poco nei prossimi giorni oltre ad una spruzzata di pioggia di questo primo pomeriggio ci saranno piogge anche a inizio settimana prossima. Ma il caldo ha colpito a Fiastra e ad Ascol in particolare. A Fiastra stroncato da un malore mentre era in casa il corpo senza vita è stato trovato nel pomeriggio grazie all'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e degli uomini dell'emergenza sanitaria. La vittima è un 75enne secondo i primi accertamenti. L'anziano era morto da un giorno. L'allarme è scattato dopo che un vicino che ha cercato di fargli visita non ha ottenuto risposta e anche a causa del cattivo odore che proveniva dall'abitazione di Fiastra. Ad Ascol per tornare a parlare di caldo, morire di caldo. L'ondata di calore che ha investito il apiceno e che ha raggiunto picchi di 40 gradi anche oggi ha messo a dura prova tutti. Ieri le temperature hanno miettuto un'altra vittima. Si tratta di Emilio Costantini, un pensionato di 78 anni, residente a Monticelli. L'uomo, come da abitudine, si era recato nel centro di Ascoli, si era recato in un bar per utilizzare un bagno. Trascorsi alcuni minuti il barista, non vedendolo tornare, si è preoccupato. Ha cominciato a bussare alla porta senza ricevere risposta. A quel punto ha aperto e ha fatto la tragica scoperta. L'uomo dolceva terra con il viso riverso sul pavimento e per lui purtroppo non c'era nulla da fare. Sempre a causa del caldo, due vasti incendi sono divampati nelle campagne di Tolentino. Ieri, nel giro di pochi minuti, il più consistente si è sviluppato nelle contrade col maggiore d'Asinina e all'ambito diverse case. In una di queste, l'abitazione dell'imprenditore Giorgio Longhi, le fiamme hanno raggiunto la siepe e le aiuole. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che il fuoco arrivasse al garage che era a soli 5 metri dalla rugola. La casa è stata temporaneamente evacuata. Ma per restare sul fronte del maltempo ci sarà un break temporalesco. Nelle prossime ore stop al grande caldo. Addirittura in alcuni paesi della regione Marche e dell'entroterra rischio grandine e nubi fragi. Dopo i brevi acquazioni di oggi, nelle Marche, allerta gialla per rischio temporale e rischio idrogeologico per la giornata di domani. Tra martedì e mercoledì in particolare ci sarà un break temporalesco. L'avvio della settimana vedrà ancora un'Italia divisa in due. Il nord è parte del centro alle prese con variabilità associata a locali acquazioni e temporali. Grande caldo invece al sud Italia. Cambiamo decisamente argomento. Andiamo a Civitanova. Caccia a chi o a cosa ha inquinato il torrente Maranello? Con scarichi finiti in mare e responsabili del divieto di balneazione sul lungomare nord. L'attenzione è puntata in particolare su un condominio. Ieri mattina i carabinieri del nucleo forestale di Macerata e della compagnia di Civitanova, insieme con i tecnici del comune Stivaloni ai piedi, hanno risalito a ritroso l'alveo del fosso, inoltrandosi nella parte interrata che corre sotto la zona urbanizzata del quartiere San Gabriele. È stato individuato il punto da cui è uscito lo scarico, che ha riversato in mare un liquido organico altamente inquinante. I perlievi dell'ARPAM proseguono. Andiamo ora alla cronaca da Ancona. Hanno svaliggiato quattro appantrotamenti a tempo record. In un paio d'ore giovedì hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, andati al lavoro, al mare o a fare spesa, per rubare oro, soldi e gioielli. Ladri gentiluomini perché hanno lasciato tutto in ordine, tant'è che una donna di Ancona si è accorta solo il giorno dopo di essere stata derubata, quando è andata a prendere un braccialetto dal suo cofanetto, ma non l'ha trovato. A tutta velocità, lungo la bretella della statale 16, siamo ad Ancona, ma non sfuggono alla postazione mobile della Polizia Municipale. Quella di venerdì in particolare è stata una giornata piuttosto intensa per gli agenti della Municipale, che sono stati impegnati in una serie di controlli per stroncare un fenomeno dilagante, quello degli accessi di velocità sulle strade cittadine. Venerdì i vigili hanno posizionato in via Bocconi i cartelli in cui si indicava la presenza, poco più avanti, di un rilevatore di velocità mobile lungo l'asse nord-sud direzione Baracola. L'auto-velox mobile, in particolare, ha immortalato un paio di vetture, la cui velocità, pensate, superava i 140 km orari. Parliamo ora di Simbola, ci spostiamo a Treia, perché la nostra emittente, come da tradizione, ha seguito l'appuntamento voluto dalla Fondazione per le Qualità Italiane, che ieri ha chiuso i battenti. Ecco come ci spiega tutto Andrea Fiano. Passare dalla stagione del conflitto a quella che abbiamo chiamato la collaborazione per la competitività, essere consapevoli della fase delicata che il Paese vive e che l'economia globale sta vivendo e compattarci per un fine comune, mettendo al centro occupazione, lavoro e giovani. La politica del lavoro sia mission del Paese, incremento occupazionale, inclusione a partire dai giovani, politica infrastrutturale. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla giornata conclusiva del seminario di Simbola a Treia. C'è un paradosso in Italia, proseguito. I corpi intermedi sembrano partiti perché parlano di progetti paese e i partiti sembrano i corpi intermedi perché fanno il contratto di governo sui vari aspetti. Uno di quelli al centro del dibattito a Simbola è stato il futuro, da costruire con due armi, empatia e tecnologia, come a dire non staccare l'economia dalle radici territoriali. L'Italia quando perde il rapporto con la sua storia, con la sua cultura, con i territori, con le comunità, e lo vediamo anche qui, nel posto dove stiamo, lo vediamo in tutta Italia, e lo vediamo dalle grandi imprese italiane che sfidano il mondo proprio perché hanno forti le loro radici, si indebolisce. E noi non possiamo usare i modelli degli altri per costruire la nostra economia. La soluzione è passare dalla gestione delle emergenze, che chiaramente vanno gestite, a quella che è l'attrattività del paese in chiave industriale. Recuperare investimenti, competitività del paese, mercati globali sono mercati di nicchia, mercati di nicchia sono mercati per noi italiani. Siamo la seconda manifattura d'Europa, ma questa posizione va conquistata giorno dopo giorno. occorre una politica economica coerente con una visione di paese di medio termine e chiaramente l'industria deve fare il suo all'interno delle proprie fabbriche, ma occorre che poi si sia competitivi anche al di fuori dei cancelli delle fabbriche italiane. La questione industriale in un paese che non ha materie prime e fonti energetiche è determinante per le soluzioni e per le riduzioni ed eliminazioni dei divari all'interno del paese. C'è una grande domanda di Italia nel mondo. Noi abbiamo tanti punti di forza, ma gli italiani non lo sanno, non ne sono convinti, non ragionano come se fossero Calimero, il pulcino di una reclam di tanti anni fa. E nella tavola rotonda conclusiva, intorno al tema del convegno, da soli non si può, empatia e tecnologia per affrontare il futuro, mondi diversi si sono confrontati proprio intorno all'idea che l'Italia ce la fa se fa l'Italia. Se scommette sull'innovazione, sulla qualità, sulla bellezza, sulla coesione, se non lascia solo nessuno, se non lascia indietro nessuno e se è anche la punta di diamante assieme all'Europa della sfida che affronta la crisi climatica, che sarà importantissima anche per l'economia. Con il servizio del nostro Andrea Fiano si chiude questa edizione marchigiana di Etigi. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!